Musica E' molto bello, emozionante, è sempre un piacere stare con Elisa e rincontrarci sempre tutti quanti e veramente sono onorata per tutto questo. Ogni volta che ci sono questi incontri ci rincontriamo sempre tutti. Non ero mai venuta e è veramente pazzesco, cioè non è una cosa che capita tutti i giorni, essere in un museo. Musica E' stata molto bella la scelta di alcuni dettagli che facevano appieno capire appunto il lavoro che c'è stato dietro a tutte queste cose e anche appunto della scenografia eccetera e come la città è cambiata e si è modellata sugli anni 50 e sugli anni 60 della serie TV. E' stato stranissimo ma soprattutto bellissimo anche perché è la prima volta che mi succede una cosa del genere e Edoardo è stato veramente bravissimo, devo dire la verità. Poi è una mostra che effettivamente racconta tutto quello che è successo in tutti i mesi che abbiamo girato. E' stato emozionante, molto emozionante. L'effetto fotografico è diverso anche rispetto a quello televisivo. Ripetersi poi ovviamente in una mostra comunque sono delle piccole soddisfazioni, no? Sono delle piccole vittorie oltre a un prodotto come l'Amica Geniale. Diciamo che sono soddisfazioni, sono vittorie per noi. Ho visto anche alcune immagini forti, ho sentito proprio qualcosa dentro di me d'intenso. Nel rivedermi mi sento anche io un po' una piccola forma d'arte all'interno del Museo Magri. Ho ricordato un po' il clima gelido, ci sono alcune foto in cui c'era un clima veramente molto rigido e giravamo in canotta, in camicia. Ci ha riportato a un anno fa penso sul set, ogni foto ha una storia, delle emozioni bellissime. E' stato veramente, intorno a oggi è un anno penso che abbiamo finito. Il 6 di luglio è stato l'ultimo giorno di set dell'anno scorso. La foto è quella del Capodanno, penso erano tipo le tre e mezza di notte e ci siamo divertiti. A parte il freddo e la stanchezza però ci siamo divertiti, sembrava Capodanno, no? Siamo entrati nel Capodanno, cioè... Questa è una delle mie foto preferite e tra parentesi tratta dalla mia scena probabilmente preferita in assoluto della stagione passata. Mi fa ridere pensare che c'è una foto uguale a questa, però al posto di Melina ci sta uno dei runner di scena, esattamente uguale, però con Nando si chiama, uno dei runner che mi fa molto ridere, è una foto che poi è passata la storia sul nostro gruppo di WhatsApp dei ragazzi. Stavo a Palazzo Gravina, era forse una delle mie prime scene importanti girate proprio nella vita e dopo i primi due Chuck Saverio si è avvicinato a me, vicino davanti a tutti, mi ha guardato e ha detto, Afra, non ci siamo proprio. Secondo me è il luogo giusto per ospitare questa mostra. Alcune veramente mi hanno lasciato senza fiato, ma da spettatore, non perché ero nella serie. Veramente sono delle foto meravigliose, raccontano non solo il lavoro, ma secondo me si potrebbe fare una versione illustrata del libro con queste foto, perché raccontano proprio il libro. Ha saputo cogliere l'emozione che c'era dentro ad ogni scena e alla lavorazione di ogni scena. Venite a vedere la mostra perché veramente lascia senza fiato, le foto sono bellissime.